Diciamo che sono grato a Fratelli d'Italia che in qualche maniera ha voluto fare questa conferenza stampa in un luogo come quello di Prato che in un certo senso ha tutta una serie di problematiche e sono arrivate a livello nazionale. Per quanto mi riguarda la mia scelta, indubbiamente sono sempre più stimolato e forzato ad andare nella direzione di candidarmi perché avevo chiesto se ci fosse un impegno civico forte e sono state depisitate tutti gli atti per una lista civica. È evidente che stasera incontrerò queste persone, parlerò con loro e dopo di che prenderò la mia decisione.